Sì, questo sì. Questo sì, in fuori adesso. Sei comodo sulla macchina di un altro? Sarà la mia stare qua con un minuto. Sì, vada, tirati su. Sennò vengono a chiederti se sei comodo. È vero. Sì, sì, però sì. Però se me la apri mi fai sedere in mezzo ancora io. Ah, ecco.